che ha trovato un banco di scuola guarda che c'è uno scarafaggio che me lo ammazzi un dato e due e ma lui uno solo io ce l'ho tutte e due così bravo bravissimo la chiocciolina che sta negando non si moccino un euro eh questa volta va bene ora dopo ti lascio dieci così ne fai dieci è di legno o di ferro? no è di legno vieni non c'è più vieni non è pesa eh aspetta ah! giappa sono ancora alto tre o quattro questi qua c'è tutte le formiche cosa diavolo sono? le abbiamo rotto le balle a tutti oggi guarda un po' lo scarafaggio perché lo ciotipè sta venendo sul tuo stivale guarda poveretto vieni zio questo qua lo dobbiamo agganciare adesso quando loro finiscono oh dio dai 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 peso se c'è a partito c'è la porta un motore anche se scuola di qua piano